aah aahhh aah 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 fassi cambiando i comandi ciao em sei scemo no scherzo dai emä sei brava le magie oh Leon intanto andiamo in game noi nel frattempo che lui entra no non mi fa pensare ah boh Leon entra nel mani in alto vi sei presente le pubblicità dell'amplifon? chiama l'800 500 700 per telefonare senza costi aggiuntivi ma che cazzo me lo dici a voce se mi serve l'amplifon cosa non ne faccio di sentire la pubblicità e poi bye bye Mi hai steso Mi hai steso Ti giuro che mi hai steso Tu non mi fai paura ok Ma che è sta cosa Darlechino Ma che è Ma non è vero Ma che è sta schermata Darlechino Dai entroll 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 non è vero Entroll Non mi fa manco vedere ok Ma che è Ha schermato Darlechino Questa Ma che è Ma vedi che bello Raga Minecraft 30.0 Raga Ma che è Ha schermato Darlechino Sempre dietro Ma che è Oh mamma Ma che fa Sti cosi Pioca Attenzione Ma guarda Ma che gli ha preso Ma che gli ha preso Ma che gli ha preso Va lec Grazie per farlo Benvenuto tra i trottoli Sì Va bene Punto esclamativo Join Ma Senti Io mi figure Farei la faccia Raga Scusi Lei Credo Che questo qui sia suo Se lo puoi riprendere Per favore Ma che cazzo Adò che C'è il villager Che mi guarda Malissimo Ma che cazzo Guarda il gole Ma che cazzo Sta a fare questo Ricoglionito No ma stava cercando Di fare esplodere Casa di Poldo Nova è pazzo Nova è completamente pazzo Ma l'avete visto anche voi? Nova è completamente pazzo Ha messo un creeper In una barca E ci si avvicinava Per farlo esplodere Ma è la stessa cosa Ha fatto con Totta Quel che ho capito Ma Non era così Nova è pazzo Ma gli ha messo il creeper Davanti a casa Nella barca Allora Anche quella Ah non lo so Dentro sospetta Ha rotto le ninfee Hanno rotto le ninfee Clippate Non ci credo Sono passati con la barca Sulle ninfee di Marin No vabbè ragazzi Questa cosa è incredibile Questa cosa è Sa di incredibile Ragazzi No no Clippate Poi dico Le prove Le prove Via via Tutte le clip Tutto I am closing the live Because My computer Is shit I am very Sad About this Buonasera Ma quale è asimmetrica Sono in f3n No raga Che qua c'è lo strippato Da mettere Per quello vi sembra Asimmetrica Ma non è asimmetrica Tranquilli 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 Allora fatemi fare un attimo Il lingottino Perché mi sono affrontato A davidino Devo farlo a shine Devo farlo A infiniti lavi Ma se si fa A mezza e mezza Fa pena Metà strippato Metà no Esatto Ti devo dare Una notizia Bruttissima Dicami Scusa se ti rompo Ma what did the digital clock Sputava fuoco Faceva grrr Ma proprio veramente Grrr Ma bruttissimo E non so come fare Uno scarafaggio Giulia Io Per me è uno scarafaggio No possiamo quittare Brava Fa schifo Mi fa proprio schifo Mi fanno Eh venire il vomito Che schifo Grazie Gioveccino per i quattro Ti devo mettere top donator Gio A parte che c'avevo il vecchio top donator Sta cosa non Non è buono Aspettate Quello di ieri avevo ancora Eh ma con la barca raga Che due coglioni Raga con la barca da qua Fino alla casa nuova Che è tipo la Madonna che riflessi prontissimi Raga all'albo dei miei quasi 40 anni Cosa ho fatto Cosa ho fatto Grigo Grigo Ciao Grigo Com'è Eh scusa Rick ma Non lo so Cioè l'avevo messo Perché per evitare Che la gente Sulle mani Endermanno Endermanno Sulle mani Ah Mi ha colpito Come ti permetti Ti torco in faccia Endermanno Guarda Lodo il master Vaffanculo Anche a te Guarda Ti do metà cuoricino mio E metà il tuo Così riuniamo E il boccio è un grande amore tra di noi Coglione di merda Via Ehm